Queste sono partite che si preparano, ma tutte le partite si preparano per vincere. Se ci sono partite che valgono di più, sono proprio queste. Noi siamo focalizzati e siamo concentrati sul fatto che dobbiamo giocare una partita che vale tre punti. Poi sappiamo benissimo che anche un derby aumentano ancora di più le difficoltà, perché quando sono stragittadine c'è comunque la volontà di primeggiare. Inter-Milan, il derby di Milano. Buonasera, gentili ascoltatori, dallo stadio Giuseppe Bersen, San Siro, buonasera. Una partita che potrebbe scrivere la storia di questo campionato. A ridosso della ridicola avversaria Ibrahimovic. C'è la nuova in zona tiro, può liberare il destro, palo! Ancora Sanchez più alto di prima, vola Godin! Superato Romagnoli, la destra, Lukaku in aria, parte il cross, ha retratto, attenzione, il tiro! La parata clamorosa! Cerca Ibra che vola e fa la torre, al centro, esce Padelli male! E Rebic infila in porta il pallone! Il cross che parte, il pallone che filtra, colpo di testa! Rete e benvenuti nel regno di Zlatan Ibrahimovic! Il raddoppio del Milan! Trappalla sul sinistro, il latino che parte, respinto poi al sinistro, il volo, Brozovic! Brozovic! Inter-Sanchez, tutto buono, tocco fuori, Messino! La ripresa a Messino, e ne parità! Calcio d'angolo di Candrema, palla in aria, di rigore, deviata di testa! Deviata da De Frey, e gol del 3-2 dell'Inter! Inter ha ribaltato il derby! Colizione clamorosa di Eriksen! Barella a lunga, Barella in aria, Barella passa e colpisce Donnarumma! Vole Ibrahimovic! E si schiatta contro il palo anche Skriniar! Cross in mezzo! Lukaku! E' 4-2 per l'Inter, che vince la partita! E sale al calciando la Juve, in testa alla classifica!